Musica Signore e signori, buona domenica e bentrovati in una nuova edizione del TG6 La Settimana. Il sulmonese Franco Iezzi è esponente dell'unica società italiana attiva in Palestina nell'ambito di progetti e di cooperazione internazionale. La situazione è disperata, dice Iezzi. Per la pace serve un intervento deciso della comunità internazionale. E' uno dei rappresentanti della Palestine Development Company, società impegnata nella cooperazione internazionale ed unica realtà italiana operante nei territori palestinesi. Franco Iezzi, abruzzese di Sulmona, è un profondo conoscitore di quella porzione di mondo che in questi giorni, dopo il terribile attacco di Hamas ad Israele, è sottoposta ai bombardamenti. Iezzi è in costante contatto con la Palestina e fino alla notte scorsa ha scambiato informazioni con i suoi referenti nella regione. Non abbiamo molte notizie, siamo un po' preoccupati per la logica che abbiamo ricostruito recentemente, che stavamo consegnando, però le disindirette che abbiamo e che la situazione è veramente drammatica e è allo stremo delle forze per tutti quanti. C'è una sorta di speranza non esplicitata per cui cominciano ad arrivare degli aiuti e le comunicazioni si sono un po' ripristinate, almeno fra Gaza e Amman in Giordania e quindi ci arrivano oltre che le solite notizie terribili, ma c'è un sottile motivo per cui si ritiene che se Hamas rilascerà ancora le persone che hanno sequestrato, probabilmente si aprirà una nuova strada e forse l'attacco israeliano verrà ancora fermato, sperando che lo sia definitivamente. Sul fronte poi di quelli che sono i possibili approdi, i possibili scenari di una pace, quale può essere dal suo punto di vista, da profondo conoscitore di quelle realtà, un approdo realistico che consenta in qualche modo di dare dignità tanto allo Stato di Israele quanto di riconoscere uno Stato palestinese? Se si impegna l'ONU, se si impegnano gli Stati Uniti, se si impegnano l'Europa a disegnare un equilibrato processo di convivenza e a garantirne l'attuazione, probabilmente si esce, perché il livello di sviluppo della popolazione palestinese è esponenziale, il livello di sviluppo degli israeliani è molto modesto e questo fatto preoccupa molto perché pensano che di qui a qualche decennio probabilmente la popolazione dei palestinesi sarà talmente soverchiante rispetto a quella di Rehre. Ma se garantiscono le forze vere di questo pianeta, ONU, Europa, Stati Uniti, probabilmente gli israeliani si sentirebbero protetti che fra l'altro hanno una grande capacità di farlo da soli, ma anche questo è un ospicio piuttosto che una realtà. Per il momento bisogna aspettare. Io mi auguro tanto che rilascino ancora qualche ostaggio, perché questo tende a mostrare una sorta di buona volontà e quindi a richiederne altrettanto dall'altra parte. Non ci sarà nessuna riorganizzazione della rete ospedaliera regionale prima delle elezioni. E' il pensiero espresso dal consigliere regionale Sandro Mariani, che ha parlato anche del nuovo ospedale di Teramo e della viabilità lungo la 14 attaccando la giunta Marsilio. Riorganizzazione rete ospedaliera regionale e viabilità lungo la 14 sono gli argomenti trattati questa mattina in conferenza stampa dal consigliere regionale Sandro Mariani, accompagnato dal vice sindaco di Mociano Sant'Angelo Mirco Rossi. Mariani ha puntato il dito contro il governo regionale. I passaggi sono diversi, dovrà tornare in commissione, dovrà arrivare in commissione e in consiglio e poi di nuovo a livello ministeriale per il vaglio finale. Ma la tempistica è stata scientificamente studiata ed è la cosa che ho denunciato all'inizio di questa conferenza stampa perché appunto la maggioranza regionale ha messo in campo questa discussione sapendo che la fine del leader arriverà dopo le elezioni regionali. Così sveleranno gli abruzzesi alla fine il grande pasticcio che hanno combinato. Fin dall'inizio ho sempre detto che l'unica via percorribile è quella del project, che i soldi non ci sono, si divertono a dire che i soldi ci sono, però non arrivano atti concreti se non parlare adesso, ripeto, a fine legislatura di dove costruire l'ospedale quando non si capisce come si costruisce questo ospedale, dove prenderanno i soldi. Il Terramano ne esce penalizzato da questa rete ospedaliera perché i numeri sono numeri, si leggono, non si possono interpretare. Abbiamo 180 posti letto in meno rispetto a quelli potenzialmente assegnabili, quindi usciamo fortemente dai potenziali. Rappertevano una terza corsia e oggi è a malapena, si circola ad una corsia, più che l'autostrada d'Abruzzo è diventata una mulattiera d'Abruzzo. Quindi la dice lunga su questa maggioranza che dalla sanità alla viabilità, che sono due temi importanti sotto gli occhi di tutto, hanno promesso grandi cose e non riescono nemmeno a gestire il quotidiano e l'ordinario. E' stato firmato dal sostituto procuratore di Pescara Andrea Di Giovanni l'avviso di conclusione delle indagini per la terza tranche dell'inchiesta sugli appalti della sanità che ruotano attorno alla figura dell'imprenditore pescarese Vincenzo Marinelli. 13 gli indagati, tra i quali diversi politici, nell'ambito di un atto che preluda la richiesta di rinvio al giudizio. Si chiude con 13 indagati la terza tranche dell'inchiesta sui presunti illeciti che ruotano attorno alle attività dell'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli. Nell'avviso di conclusione delle indagini, a firma del sostituto procuratore di Pescara Andrea Di Giovanni, compaiono anche i nomi di diversi politici, a partire da quelli dei consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo, della Lega, Sabrina Bocchino e del Partito Democratico, Silvio Paolucci, per arrivare all'ex parlamentare di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, attualmente nelle file della Lega. Altre figure di rilievo coinvolte nell'inchiesta, oltre allo stesso Marinelli e al suo contabile Pasquale Sentenza, sono la ex dirigente del servizio beni e acquisti dell'Asle pescarese, Tiziana Petrella, il funzionario della Asle Antonio Verna e l'ex dirigente del comune di Pescara Guido Dezio. Tra gli indagati anche Gabriele Di Bucchianico e Corrado Greco, del consorzio SGS, con Greco che è stato anche segretario dello staff di Silvio Paolucci ai tempi in cui quest'ultimo era assessore alla sanità. Completano l'elenco i marsicani Tiziana Sestini e Vittorio Forte. Forte, imprenditore di Avezzano, ricoprì il ruolo di mandatario elettorale di Di Stefano quando l'attuale esponente leghista si candidò a sindaco di Chieti. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione, turbativa d'asta, traffico di influenze illecite e favoreggiamento. Sotto la lente del sostituto procuratore di Giovanni sono finite tre gare d'appalto che sulla base dell'ipotesi accusatoria sarebbero state truccate. Quella per la gestione dei servizi di radioterapia integrata all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti nella quale rientrava anche l'affidamento dei lavori riguardanti l'installazione delle dotazioni tecnologiche. Quella per l'assistenza domiciliare e infine la gara per la fornitura di servizi in favore di pazienti in stato di fragilità. Secondo quanto ricostruito da Di Giovanni, Marinelli avrebbe ottenuto favori e interessamenti finalizzati all'aggiudicazione degli appalti in cambio di finanziamenti elettorali, sponsorizzazioni e promesse di voti, ma anche attraverso l'elargizione di costosi regali tra i quali borse e orologi griffati, gioielli e bottiglie di champagne. Il fungo della Peronospora ha messo in crisi l'intero mondo vino regionale. Nelle quattro province si registra un calo di produzione di circa il 70%. La politica regionale dia risposte concrete il coro unanime dei produttori. Una seconda pandemia. Così definiscono il difficile al momento che stanno attraversando i rappresentanti della filiera vitivinicola della regione Abruzzo. A mettere in ginocchio il comparto enologico, il fungo della Peronospora. Una perdita acclarata di circa 2,7 milioni di quintali di uva, pari a circa 2 milioni di ettolitri di vino che, tradotto in termini di imbottigliamento, equivalgono a circa 260 milioni di pezzi. A livello economico il danno non risulta inferiore ai 380 milioni di euro. Oggi, lo dobbiamo dire, non è una conferenza di bandiera, non è una conferenza di colore, è una conferenza di tutti gli attori aventi causa. Perché, ripeto, la situazione è veramente traumatica e finalmente, purtroppo, in questa disgrazia, abbiamo trovato la totale unione. 12 sigle riunite, diciamo, in una stessa conferenza stampa. Penso che sia un evento unico, non solo a livello regionale, ma penso soprattutto a livello nazionale. Le 12 sigle, in maniera unitaria, chiedono la sospensione dei mutui e dei finanziamenti per almeno due anni, la sospensione e riduzione dei contributi IMSS, azzeramento dei tassi di interesse per finanziamenti e acquisti scorte. Perché non possiamo permettere che in un'annata come questa il nostro sistema più importante dell'agricoltura regionale vada in crisi con possibilità di chiusura di parecchie aziende e anche mutualità sul sistema vitivinicolo abruzzese. A risentirne maggiormente le cooperative, 33 nella nostra regione, che hanno registrato un calo dei conferimenti di circa l'80%. Sinceramente stiamo vivendo un momento buio, difficile, sia nella gestione, nel rapporto dei soci, ma soprattutto si rischia di non riuscire a mantenere la continuità aziendale. Noi ci siamo trovati a lavorare l'80% in meno delle uve conferite e capite bene che legati a tutta una serie di vincoli, sia per lo status di cooperativa, sia per l'entrata in vigore e le nuove norme, abbiamo delle serie difficoltà nella gestione corrente. Il 31 ottobre ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al tema delle misure urgenti a sostegno del settore agricolo abruzzese. I nostri amministratori pubblici e amministratori locali dovrebbero essere bravi a portare a Roma le nostre istanze, che sono veramente istanze di un settore del tutto in crisi e ovviamente se queste istanze ben raccolte possono portare a livello nazionale a un adeguato ristoro. Ora è ufficiale, il Consigliere regionale Domenico Pettinari sarà candidato sindaco con una lista civica a Pescara. Addio al Movimento 5 Stelle. Dopo gli annunci delle scorse settimane, il Consigliere regionale Domenico Pettinari annuncia la sua candidatura a sindaco di Pescara con un Movimento Civico. La sua scelta, come ha spiegato oggi la stampa, è arrivata anche dopo le ultime inchieste giudiziarie. Ci tengo a mettere un focus molto forte e importante sulle ultime inchieste giudiziarie. Apprendiamo ancora una volta dalla stampa di indagini e indagati eccellenti della politica regionale bipartisan, perché ci sono indagati sia del centro-destra che del centro-sinistra per reati importanti, reati gravi, che impattano sulla sanità. Io ho fatto battaglie storiche sulla sanità, battaglie che si sono identitarie, che si sono contraddistinte per tutelare davvero gli interessi dei cittadini e la tutela del diritto alla salute. E quando leggiamo queste indagini che investono politici di spicco del Consiglio regionale, allora io mi sento male. Questo, anche alla luce di questo, di queste indagini che vedono coinvolti i politici del centro-destra e del centro-sinistra, io non potrò mai, come ho già detto, allearmi con questa gente o correre con queste persone o con questi partiti. Ho scelto da tempo ormai, con una grande squadra, con una coalizione civica importante e imponente, di guidare questa coalizione civica e candidarmi come sindaco della città di Pescara. Pettinari lascia ufficialmente il Movimento 5 Stelle. Non potrò mai andare con chi si allea con il centro-sinistra e ancor meno con il centro-destra. Il vicepresidente del Consiglio regionale sceglie la corsa in solitaria verso Palazzo di Città. Oggi finisce anche la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Ma guardi, io ho sempre detto e continuerò a dire che io non potrò mai appoggiare forze politiche che si alleano con coloro che all'interno del Consiglio regionale hanno esponenti indagati per reati gravissimi. Ma non solo. Non potrò mai appoggiare forze politiche che si alleano col centro-sinistra e con il centro-destra. Quindi se anche il Movimento 5 Stelle si allea ormai a siglato degli accordi in regione Abruzzo io non potrò mai appoggiare questa cozzaglia, questa alleanza, questo governo dell'assembramento perché è davvero un governo dell'assembramento. Come si fa a cambiare le cose alleandosi con il PD, Italia Viva, Azione, esponenti di Italia Viva e affini? Come si fa a cambiare le cose alleandosi con Forza Italia, con fratelli d'Italia, collega o con affini? Con queste persone non si può fare nulla di buono perché hanno già, li abbiamo messi alla prova e hanno fallito. È semplicissimo. Anche il bambino della terza elementare potrebbe capire e trarre le stesse deduzioni che sto trovando io. Dopo Carlo Masci e Domenico Pettinari anche il centro-sinistra comincia a programmare in vista delle prossime elezioni amministrative a Pescara. Un campo aperto lo hanno definito un modello simile a quello già visto per le regionali. Segreto ancora il nome del candidato con Carlo Costantini in pol. Pescara ha bisogno urgentemente di ritrovare la fiducia nelle proprie istituzioni. Così i consiglieri comunali dei gruppi di opposizione Partito Democratico Movimento 5 Stelle Lista Sclocco Sindaco Azione e Città Aperta chiamano a raccolta le forze politiche civiche della città per costruire insieme la rinascita di Pescara. Il nome più chiacchierato per sfidare Carlo Masci e Domenico Pettinari al momento è quello di Carlo Costantini ma è stato lui stesso questa mattina a mettere fine ai rumors. Io le dirò che non è così perché non sto parlando adesso parlando da componente di questo raggruppamento di forze politiche che ha avviato un percorso. Io l'ho detto e ribadisco non ci sono nomi di candidati sindaci né il mio né quello di nessun altro. La distruzione di Viale Marconi l'utilizzo delle telecamere semaforiche come Bancomat a danno dei cittadini e l'attacco e l'abbattimento del patrimonio verde sono le basi che hanno portato alla costruzione di un progetto alternativo di governo che si fondi su partecipazione competenza e programmazione. Noi vogliamo rappresentare il governo della città in modo esattamente opposto diametralmente opposto a come era rappresentata Masci. Masci ha cercato in qualche modo di imporre la sua volontà in ogni condizione e in ogni situazione l'ha fatto molto spesso con arroganza l'ha fatto senza mai coltivare il sentimento del dubbio che invece dovrebbe caratterizzare l'operato di ogni decisore politico. Quella alle porte sarà la consigliatura più importante della storia della città in vista della costituzione della nuova Pescara. Questa è la consigliatura più importante degli ultimi cento anni perché è l'ultima consigliatura di Pescara che accompagna la nostra comunità verso il futuro verso il progetto di una Pescara quindi la qualità del governo della città di Pescara dei prossimi 36 mesi sarà fondamentale. Nei prossimi giorni due incontri il 31 ottobre e il 2 novembre prima con le forze politiche poi con i comitati cittadini. Io credo che sia sbagliato definire un perimetro del nostro possibile consenso noi non abbiamo perimetri e non abbiamo limiti noi cercheremo consenso ovunque a partire dal centro-destra. In chiusura Carlo Costantini ha parlato anche della candidatura di Domenico Pettinari. Ma non dà fastidio la candidatura di Pettinari è assolutamente legittima c'è magari nasceranno altre candidature certamente i problemi che pone lui all'ordine del giorno e che rende centrale il suo programma sono problemi che esistono ma non saranno obiettivi solo suoi saranno obiettivi anche nostri. stipendi dei lavoratori dipendenti abruzzesi ampiamente al di sotto della media nazionale maglia nera regionale per Teramo dove si guadagna il 90% in meno rispetto a Milano mentre la provincia abruzzese nella quale gli stipendi sono più alti e chieti è quanto emerge da uno studio compiuto dalla Cigia di Mestre che ha elaborato i dati forniti dall'Inps. Le retribuzioni dei lavoratori dipendenti abruzzesi con una media di 17.793 euro l'anno sono tra le più basse d'Italia a rivelarlo è uno studio della Cigia di Mestre che ha elaborato i dati dell'Inps dai quali emergono differenze eclatanti con compensi molto più alti al nord e nei grandi centri urbani gli stipendi più elevati vengono percepiti in provincia di Milano dove in media raggiungono 31.202 euro l'anno a seguire Parma con 25.912 euro e Bologna con 25.797 euro le retribuzioni più basse si registrano al sud con la provincia di Vibo Valencia ultima in graduatoria con una media di 11.823 euro l'anno va poco meglio ai lavoratori di Trapani Cosenza e Nuoro dove i compensi non raggiungono quota 13.500 euro la media nazionale è di 21.868 euro l'anno e tutte e quattro le province abruzzesi si collocano ampiamente al di sotto di tale soglia a Teramo gli stipendi più bassi della regione con una media di 16.542 euro l'anno quasi il 90% in meno rispetto alla media di Milano ma peggio anche rispetto a Campobasso Potenza e Siracusa retribuzioni poco più alte a Pescara con una media di 17.612 euro l'anno e all'Aquila con 17.653 euro la provincia abruzzese dove si guadagna di più è Chieti dove la media è di 19.366 euro l'anno in sostanza nonostante l'abolizione delle famigerate gabbie salariali risalenti ai primi anni 70 sono riemersi con forza squilibri e disuguaglianze l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro ha infatti prodotto solo in parte gli effetti sperati il centro studi della CGA spiega le differenze salariali alla luce del fatto che nel settore privato le multinazionali le utilities le imprese medio-grandi e le società finanziarie assicurative bancarie che tendenzialmente riconoscono i propri dipendenti stipendi molto più alti della media sono ubicate prevalentemente nelle aree metropolitane del nord senza dimenticare l'analisi dell'associazione artigiana che nel mezzogiorno è molto più diffuso il lavoro irregolare a peggiorare ulteriormente il quadro la piaga del lavoro povero che non sarebbe da ricondurre tanto ai minimi tabellari quanto al fatto che molte persone hanno la possibilità di lavorare soltanto per un numero di giornate molto limitato adesso passiamo allo sport dopo la sconfitta con la Torres il Pescara proverà a tornare alla vittoria nel match con la Re Canatese alle 18.30 previste novità informazione rossa di nuovo al completo per il Pescara che domani alle 18.30 sarà con la Re Canatese sarà la seconda gara consecutiva all'Adriatico gli obiettivi sono cancellare lo scivolone con la Torres e ritrovare una vittoria casalinga che manca dal 3-2 inflitto al Gubbio lo scorso 2 ottobre da allora il Delfino ha vinto due partite in trasferta a Ferrara e Lucca mentre l'Adriatico ha pareggiato con la Vispesaro e perso contro Torres e Pineto anche se da calendario era una partita esterna dopo aver giocato gli ultimi due match con il medesimo 11 Zeman dovrebbe effettuare alcune modifiche all'assetto titolare Cangiano Aloi e Floriani Mussolini sono in predicato di una maglia in ascesa anche le quotazioni di Tommasini cui Zeman potrebbe dare una chance al primo minuto nel caso per la prima volta non sarebbe titolare Cuppone che nelle ultime cinque partite è stato cambiato tre volte all'intervallo Zeman prova a guardare con fiducia avanti anche sulla base di quanto dichiarato dopo la sconfitta di mercoledì scorso questa squadra sta facendo un ottimo campionato io spero che migliora ripeto ne abbiamo squadre giovanissime da loro mi aspetto solo la crescita e altri possono crescere poco c'è il rischio di un contraccolpo psicologico per la squadra dopo questa sconfitta io spero che la squadra si vorrà rifare domenica penso che arriviamo con la voglia di fare la partita e di vincere la partita avversario da non sottovalutare la recanatese al suo secondo anno in Lega Pro ma sempre più calata nella parte di squadra di categoria e guidata dall'esperienza del tecnico Giovanni Pagliari nonostante lo scivolone di Pesaro i giallorossi leopardiani hanno disputato una gara all'altezza col Perugia imponendo il pari per 0 a 0 e hanno una lusinghiera classifica con 14 punti all'interno della zona playoff in forte dubbio Manè squalificato il difensore Veltri al suo posto forse Peretti Pagliari dovrà decidere sul modulo o il 4-4-2 abbandonato dalla sconfitta di Lucca e rispolverato due giorni fa col Perugia o il 3-5-2 con cui ha positivamente invertito il trend di inizio stagione dopo le sconfitte nelle prime tre giornate in amanti c'è un ex come Federico Melchiorri anche se il faro della squadra è Alessandro Sbaffo finalizzatore ma anche regista offensivo a completare l'undici in difesa Ferrante Ricci e un altro ex Longobardi Senigalliesi Prisco Morrone Carpani in mezzo direzione di gara affidata all'Ovison di Padova che non ha mai arbitrato il Pescara tre precedenti in D per l'area canatese con una vittoria un pareggio e una sconfitta Con questa notizia termina anche per oggi l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti